Adesso stiamo mettendo a punto anche il test diagnostico grazie al sinergismo che abbiamo con l'unità operativa della microbiologia e nel giro di poche ore potremo avere la risposta del test del coronavirus. Fa passi avanti il protocollo sanitario messo a punto per affrontare un'eventuale emergenza contagio in Italia e a Padova centro di eccellenza individuato per la nostra regione come sede operativa della task force sanitaria arriveranno nelle prossime ore i nuovi test super avanzati capaci di dare risposta certa in poche ore sulla presenza di infezione da coronavirus. Chiunque si dovesse sottoporre all'esame clinico non sarà più costretto quindi a destenuanti attese. Da giorni il centro di malattie infettive Patavino sta rispondendo alle migliaia di domande che i pazienti rivolgono ai medici che vi lavorano. Alcuni si presentano qui con una leggera febbre, altri invece con sintomi preoccupanti. Per tutti coloro che sono da poco rientrati dalla Cina e che si rivolgono al reparto di malattie infettive l'iter è definito tampone e isolamento domiciliare per 15 giorni. Per la maggior parte dei casi si tratta soltanto di persone che vogliono essere rassicurate perché ovviamente il tampam mediatico è tanto, c'è molta paura talvolta anche del tutto ingiustificata però noi siamo anche qui per cercare di rassicurare queste persone che devono soltanto stare in isolamento domiciliare nel caso non abbiano nessuna sintomatologia e ovviamente provengano dalla Cina. I casi sospetti fino ad oggi si sono rivelati fortunatamente negativi all'infezione ma l'allerta nella nostra regione rimane altissima.